Risultato a sensazione per i due centauri elbani del team Iorita di Slauto che hanno partecipato al Sardegna Rally Race, gara motociclistica di livello mondiale che ha tirato sull'isola nei giorni scorsi i più importanti fuoristradisti su due ruote del mondo. Clamoroso soprattutto il risultato di Stefano Frassini in gara con una Fantic 200 con il numero 40, sedicesimo assoluto dopo i VIP mondiali della specialità, ma terzo nel Challenge 250 e soprattutto secondo assoluto nel campionato italiano Ride TT dietro al vincitore Romano Caviglia, ma davanti all'altro il bano Claudio Mameli in gara con il numero 38 con una Fantic 125, anche egli sul podio in terza posizione. Per la cronaca al quarto posto in questa gara si è piazzato il mito della Dakar degli anni 90, Franco Picco. Ottima dunque anche la prova di Claudio Mameli che è risultato oltre a questo anche quarantesimo assoluto e vincitore del Challenge 125.